Ho visto stamattina che Renzi ha detto che ci vuole Gentiloni Premier, ci vuole Draghi, Ministro dell'Economia. Poi magari vediamo Cristiano Ronaldo e mettiamo Sto. Uno dice che vorrei andare sull'unico, ma non posso. Grazie, grazie. E che certo serve una soluzione stabile perché l'equilibrio possibile è rappresentato dal Presidente Conte, non ne vediamo altri, anche perché l'equilibrio parlamentare è quello che è, quindi nasce dall'inizio del 2018 e è di questo che si parla. Già la coalizione di destra-centro è venuta al Quirinale a spiegare che loro vogliono dare il voto, quindi voi capite che costruire una maggioranza non si può fare con quello che resta e con quello che resta bisogna trovare il modo di far dialogare. L'operazione numerica della ricerca dei numeri sembra infatti complicarsi. Era complicata anche prima, anche se il Presidente, non può dimettersi, ma era un Presidente fiduciato. è un Presidente fiduciato.